Comincerà breve l'autopsia sul corpo della dottoressa trovata priva di vita nella piscina del suo giardino. La tragedia si è verificata lo scorso lunedì a Torrette di Mercogliano dove viveva la dottoressa Antonella Bruno. Ad effettuare l'esame sarà il medico legale Carmen Sementa che nell'immediatizia di fatti ha già eseguito un esame esterno sul corpo della 61enne. Fondamentali saranno gli esiti degli esami tossicologici per stabilire se la psichiatra avessi assunto un mix di medicinali e alcol. Per la morte della dottoressa infatti si ipotizza un malore in seguito al quale la donna sarebbe caduta in piscina. È stato escluso fin da subito il decesso per cause violente sul corpo di Antonella Bruno. L'esame esterno non ha messo in evidenza segni che possano indirizzare le indagini verso tale ipotesi. La donna nell'appartamento di Torrette viveva da sola. In casa aveva due gatti e qualche testimonia avrebbe raccontato che la domenica sera la 61enne si aggirava tra il giardino e la piscina proprio alla ricerca di uno dei suoi gatti. A dare l'allarme alle prime luci di lunedì mattina è stato un condomino che ha facciatosi sul balcone. Ha visto il corpo della dottoressa in acqua. In casa della donna oltre agli agenti della squadra mobile si sono portati anche gli uomini della scientifica mentre il corpo della 61enne è stato recuperato dai vigili del fuoco. A oggi potrebbero esserci delle prime risposte utili a stabilire la causa della morte della nota psichiatra.